Tra poco, Casper su Boomerang! Noi siamo Fred, Velma, Daphne, Shaggy e Scooby-Doo. Ma non ha certo bisogno di presentazioni, perché è l'investigacane più famosa del mondo! Scooby-Doo-Boo! E insieme a loro forma una squadra eccezionale! Per smascherare polsi fantasmi, fenomeni soprannaturali, può essere dall'oltre tomba... Ti serve il loro aiuto! Le nuove avventure di Scooby-Doo, da lunedì al venerdì alle 6.10 e nel weekend alle 5.20 su Boomerang! Adesso, Casper su Boomerang!